Siamo arrivati al primo torneo, con una buona attitudine, perché le ragazze non sono in forma perfetta. Ora stiamo iniziando a diminuire la capacità di potenza. Le ragazze stanno cercando di lavorare bene nel training. E sono molto felice per i ultimi due giorni, perché abbiamo iniziato a vedere alcuni miglioramenti, soprattutto nel sistema che abbiamo bisogno di lavorare. E da domani possiamo anche iniziare a lavorare con la connessione tra Newsetter e i nostri spikers, perché ci prenderà molto tempo, ma possiamo dire che in questo momento siamo abbastanza soddisfatti e ci sono dei più importanti, perché ci vediamo nel training. Credo che con il tempo tutto sarà meglio e meglio. Questo torneo per noi sarà molto importante, perché giocheremo tre matchi in un'altra parte, e possiamo cercare di cercare qualcosa di giorno per giorno, e possiamo cercare di cercare qualcosa. e credo che questo torneo sarà molto importante per cercare la comunicazione tra Settere e Spikers. Siamo aspettando questo momento, e poi ci vedremo. Ma possiamo dire che siamo positivi e satisfezni con ciò che abbiamo ottenuto. Grazie. Grazie a tutti.